Sì, ecco, vede, signor Fredore, io sono diplomato in lingua francese e laureato in lettere, ma non ho mai trovato un vero lavoro, solo robetta piccola, di contorno. Come di contorno? Nel senso che potevo mangiare solo i contorni, signor Fredore, e neanche tutti i giorni. Ma ha provato il collocamento? Eh, mi sono iscritto che avevo 16 anni, ma ancora non mi hanno chiamato. Nel frattempo ho fatto dei concorsi. Quanti? Una quarantina, signor Fredore. L'ultimo eravamo 2800 concorrenti per soli 30 posti. Io naturalmente sono arrivato a trentunesimi. Mi volevo ammazzare, signor Fredore. Ho anche passato in rassegna vari tipi di suicidio dal più facile... Mattarelli, non divaghi. All'epoca del fatto lei cosa faceva? La fame, signor Fredore. A tempo pieno e orario continuato. Praticamente ero a dieta forzata.